Il 2022 della giunta a Quaroli si è chiuso con l'approvazione del bilancio che stanzia la cifra di 252 milioni di euro tra sestamento 2022 e triennio 2023-25 da destinare alle infrastrutture. Cifra corposa di cui buona parte è destinata alle infrastrutture stradali, ma in cui la fetta più sostanziosa di 119 milioni e mezzo viene ritagliata per l'edilizia ospedaliera. Maxi finanziamenti sanitari così motivati dall'assessore Francesco Baldelli. Perché, permettetemi il termine, abbiamo trovato degli ospedali vecchi, vecchi nelle concezioni architettoniche, vecchi strutturalmente, non in grado di garantire la sicurezza dei pazienti che stanno all'interno, pensate in un'emergenza sismica. E purtroppo a Pesaro, come nel resto della nostra regione, in questi anni abbiamo vissuto un'onda sismica preoccupante. Dobbiamo attrezzare le nostre strutture non solo perché reggano al terremoto, ai terremoti o altre tipologie di emergenze, ma perché riescano ad operare anche durante l'emergenza. Questo è il primo obiettivo che ci siamo posti. Considerando anche che la concezione, i layout degli ospedali sono fondamentali per far esprimere alle professioni mediche e a tutti gli altri operatori sanitari, al meglio le loro capacità. Quindi un grande investimento, non solo per creare un contenuto, ma per rendere anche di fronte alla carenza dei nostri medici, più efficiente e più efficace la sanità che riusciamo ad offrire in questo contesto storico molto difficile. Dove non abbiamo trovato medici, medici di medicina generale, quindi i nostri medici di famiglia, il numero sufficiente per dare risposte ai nostri concittadini, ma non abbiamo trovato nemmeno medici ospedalieri che sono fuggiti dalla nostra regione per andare in altre regioni, che anch'esse sono in sofferenza. Perché non abbiamo preparato medici in grado di poter dare dei contenuti ai nostri contenitori, ai nostri ospedali. E allora in questo il Presidente Acquaroli è stato molto, ma molto determinato. Abbiamo investito, sostituendoci anche allo Stato, per dare un segnale, tracciare una rotta ben precisa, oltre 6 milioni di euro annui per la formazione del personale medico. Sia medici di medicina generale, competenza più vicina a quelle regionali, sia i nostri medici specialisti per le strutture ospedaliere. Ne formiamo circa 150 all'anno per colmare quella carenza che abbiamo trovato dovuta alla mancata programmazione del passato. Quella di Pesaro Urbino risulta la provincia con gli investimenti più massicci, sia in aspetti migliorativi sia in edificazioni ex novo. Su tutte il nuovo ospedale di Pesaro a Muraglia, ma pure i nuovi ospedali di comunità come quello che sorgerà a Monbaroccio. Dall'ospedale di Pesaro siamo partiti perché era un'esigenza che si sentiva da oltre 50 anni. Se ne era parlato tanto, ma nessuno aveva mai concretizzato nulla. In due anni non solo abbiamo reperito tutte le risorse necessarie, si tratta di circa, al netto dell'aumento prezzi, 150-170 milioni, con l'aumento dei prezzi, con i nuovi prezziari, circa 200 milioni. Partiremo ben presto, non solo con la progettazione, ma prima della fine della legislatura. auspichiamo di partire al netto di condizioni che oggi non possiamo prevedere con la realizzazione fisica della struttura ospedaliera. A quale si aggiungono una serie di investimenti per tutto il territorio? Lei ha parlato di Monbaroccio, potrei parlare anche di Cagli, o di Urbino, o della terza città delle Marche, Marche Fano, con una nuova palazzina delle emergenze, così come faremo ad Urbino, o anche la edificazione del cosiddetto nuovo ospedaletto, un ospediatrico che manca nella nostra regione, e ovviamente manca anche nella nostra provincia, o la ristrutturazione dell'ospedale di Pergola. Poi ci vorremmo concentrare anche, come stiamo facendo, nei servizi dell'ospedale di Sassocorvaro, e dare una risposta, perché credo che sia giusta il collega competente in materia, già ha incontrato le amministrazioni della Valle del Metauro, anche nella riattivazione di alcuni servizi presso l'ospedale di Fossombroni. Tutto questo riguarda degli investimenti che possono essere computati all'incirca in 300 milioni di euro solo nella nostra provincia.